Le 4.000 firme raccolte con la petizione popolare non sono bastate. L'Oda Teatro di Foggia resterà chiuso. Uno dei motivi principali sarebbe la mancanza di risorse da destinare all'adeguamento della struttura, alle norme di sicurezza e antincendio. Lo scorso aprile, dopo i controlli del Vigili del Fuoco, sono stati posti sigilli alla struttura di proprietà della provincia di Foggia. A causare la chiusura forzata, alcune infrazioni sulle norme di sicurezza e la mancanza del certificato di donietà statica di cui l'Oda risulterebbe sprovvista. A lanciare il grido di allarme e ad avviare la raccolta firme è stata la compagnia teatrale Il Cerchio di Gesso che per dieci anni ha gestito l'Oda e che oggi spiega che nonostante l'intervento del commissario Fabio Costantini non ci sono possibilità di riaprirlo. La cooperativa potrà però mantenere all'interno l'ufficio e tutte le attrezzature attraverso un contratto di comodato d'uso ma non sarà possibile realizzare alcuno spettacolo, solo all'esterno con piccole rappresentazioni. La struttura era un vecchio capannone industriale trasformato nel 2003 dall'amministrazione guidata dall'allora presidente Antonio Pellegrino dove però non sono mai stati eseguiti quegli interventi indispensabili e richiesti dalle norme di sicurezza e che sarebbero serviti a tenere accese le luci sul palcoscenico. Grazie 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 Grazie